Stanco della vecchia pulizia? Vuoi cambiare? Chiama l'impresa di servizi e pulizia L'Ecologica di Enzo Petricelli. Serietà, esperienza, cortesia, impegno, professionalità, innovazione. Con personale qualificato e con prodotti professionali industriali. Ci occupiamo della pulizia di uffici, condomini, parchi, fabbriche, palestre, enti pubblici. Inoltre effettuiamo sgrassaggio mochette e parquet, lucidatura di ogni genere di pavimenti con macchine professionali, servizio di pitturazione e servizi idraulici, servizio portierato e custodia, servizi di vigilanza, trasporti di qualsiasi genere, disinfestazione e deratizzazione. Chiedi un preventivo gratuito, chiama al 339 48 46 673. Impresa di pulizia L'Ecologica, per un mondo più pulito. Impresa di pulizia L'Ecologica.